Cose incredibili, come vedete, calzaforti, motocicli, stufe, bidoni, gomme, lavandini, di tutto di più. Una battuta, ma non di caccia, quella delle squadre dei cinghialai del comune di Arezzo, bensì per raccogliere i rifiuti ingombranti, in alcuni casi, che vengono lasciati nei boschi del territorio aretino. Praticamente, vedendo la caccia, vedendo tutte queste immondizie in questo modo qui, è una cosa che non va bene. A noi cinghialai non va bene così. Noi, quando si vede il sud, diciamo, staccate, non è tutta la colpa a questi cacciatori, ma questi cacciatori sono più puliti di tanta gente. Circa 40 le tonnellate di rifiuti raccolti dalle 9 squadre del distretto C, che si sono ritrovate nel parcheggio di Viaduccio da Buoninsegna ad Arezzo per raggiungere poi il centro di raccolta del tramarino. Qui gli oggetti sono stati smistati a seconda del materiale. Incredibili ritrovamenti, tra questi anche una cassaforte. Purtroppo ci sono anche rifiuti pericolosi, come l'amianto, ma in questo caso i cacciatori non possono rimuoverli. C'è un tavolo. Un'iniziativa che è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il comune di Arezzo e Sei Toscana e che presto potrebbe arrivare anche nelle altre vallate. Noi siamo quelli che abbiamo trovato il motorino, la cassaforte, che tra l'altro poi per noi erano diventati punti di riferimento quando ci trovavamo, perché ci dicevamo ci si trova la lavatrice alla cassaforte. Adesso per fortuna abbiamo pulito e abbiamo perso come punto di riferimento i nostri luoghi di caccia. E ci domandiamo sempre, infatti, come le persone possono abbandonare a distanza di qualche chilometro addirittura cose ingombranti, pesi, insomma... Poi c'è della roba che la gente non può far vedere, per esempio c'è un bidone di plastica di orafili enorme, che non si riesce a smuovere in quattro, per andare con l'escavatore, caricare su un camion e portare alla sei. E' un po' di riferimento. E' un po' di riferimento. E' un po' di riferimento.